Lo sport fa bene? Certo, però non bisogna nemmeno farne troppo. Se facciamo troppa attività aerobica, produciamo troppi radicali liberi dell'ossigeno che ci ossidano e quindi ci fanno invecchiare. Se facciamo troppa attività intensa, tipo allenamento con i pesi, allenamento di potenza, produciamo troppo acido lattico che intossica i nostri tessuti, soprattutto a livello della matrice extracellulare. E allora come ci dobbiamo comportare? Oltre al fatto che dobbiamo fare un'attività fisica controllata, alternando anche l'adeguato recupero, è importante anche attuare delle pratiche di alimentazione e integrazione per aiutare il nostro organismo a recuperare e a disintossicarsi. Normalmente gli atleti, pensando di avere più energia, tendono a consumare più carboidrati, pane, pasta, riso. In realtà questo non è molto corretto, perché un'assunzione eccessiva di carboidrati in realtà altera il controllo glicemico, quindi creando degli squilibri appunto a livello di energia e inoltre ha un effetto, soprattutto nel momento in cui si consumano troppi cereali, ha un effetto acidificante che quindi diminuisce l'energia a livello cellulare e favorisce anche la predisposizione a infortuni, cioè a tendiniti, a traumi muscolari. Altrettanto vero che anche l'eccesso proteico non è funzionale, perché anche troppe proteine possono essere anch'esse acidificanti, soprattutto se di origine animale. Le uniche proteine di origine animale che non sono acidificanti sono le proteine del siero del latte. E tra l'altro questo depone anche a favore dell'uso della ricotta, che è un latticino che deriva dal siero del latte, che spesso viene inserita anche in protocolli alimentari finalizzati alla detossificazione, finalizzati anche a diminuire l'infiammazione generata dagli alimenti. Quindi fondamentalmente le proteine del siero in realtà hanno una valenza estremamente positiva per l'atleto, sia per recupero muscolare, ma anche perché non sono acidificanti e anche perché le proteine del siero sono ricche di amminoacidi e solforati, che rappresentano un presidio fondamentale nella fase di detossificazione tipo 2 che avviene a livello del fegato. Quindi cosa dobbiamo fare? Senza dubbio dobbiamo aumentare gli alimenti che hanno un effetto basificante, che contrastano l'acidità, che sono per esempio le patate, che sono la frutta fresca, la frutta secca a guscio e soprattutto le verdure. Però è anche vero che spesso gli atleti che fanno un'alimentazione abbastanza abbondante, fanno fatica a consumare quantità sufficienti di verdure. Allora in questo caso per queste persone, per questi atleti, può essere molto utile assumere dei succhi concentrati di verdura e frutta, che possono essere assunti per esempio proprio nella fase di recupero, dopo allenamento, per favorire la detossificazione, per favorire la rimineralizzazione, perché ovviamente questi succhi vegetali sono ricchi anche di minerali, ed eventualmente anche aggiungendo delle proteine del siero, che favoriscono il recupero a livello muscolare, attivando la sintesi proteica, e anche se favoriscono i processi di detossificazione a livello epatico.